migliaia di dna prelevati nelle valli bergamaste si cerca ignoto 1 poi la prima svolta infatti dopo aver individuato attraverso una scrematura enorme un cliente della discoteca sabbie mobili damiano guerinoni con l'aplotipo y compatibile molte aree con quello di ignoto 1 i carabinieri hanno un punto di partenza ma damiano non combacia perfettamente e allora bisogna cercare un parente decine di tamponi salivari fra i guerinoni ma niente la polizia scava fino al 1719 cioè fino al capo stipite dei guerinoni batta guerinoni poi un francobollo salva l'indagine daniela guerinoni ha conservato delle cartoline del papà giuseppe autista di gorno morto però nel 2009 viene prelevato il dna dal francobollo e gli scienziati gridano eureka è lui il padre peccato però che nessun figlio legittimo di guerinoni sia ignoto 1 allora si cerca di scavare nella vita dell'autista si cerca un figlio illegittimo i carabinieri usano un parametro di indagine chiaro sono a caccia di una donna nata dopo il 1938 che si è entrata in contatto in qualche modo con guerinoni e che abbia un particolare allele il 26 presente nello 0,10 per cento della popolazione italiana dopo una scrematura restano 532 donne 2 hanno lallele 26 entrambe fanno di cognome arzuffi eppure non sono imparentate fra loro ma nonostante il dna di ester sia nelle banche dati del ris per due anni l'inchiesta rimane immobile per un errore di comparazione le indagini intanto suscitano reazioni e c'è chi dice di aver saputo che una delle due arzuffi avrebbe avuto una storia con giuseppe guerinoni ma le soffiate non bastano ci vuole la scienza ennesimo tampone salivare è il 14 giugno 2014 alco test per massimo giuseppe bossetti 21 marcatori su 21 99,9 per cento periodico ignoto 1 ha un nome lui per la giustizia è ignoto 1 grazie 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 grazie